Una bellissima prova anche oggi di affetto da parte dei ragazzi verso la Proreco, verso la nostra squadra, verso la nostra società. Siamo contenti perché come a Camogli la collaborazione anche qui con la Nutratore Genovesi e con il Quinto secondo me darà splendidi risultati. A Camogli sta andando molto bene il lavoro fatto insieme a Camogli e a Rapallo. Di fatto i ragazzi sono contenti, sono emozionati di iniziare ad avere la pallanotto, questo è quello che vogliamo perché cerchiamo di avvicinare il più possibile a questo bellissimo sport i nuovi talenti e che possano giocare un po' in tutte le categorie delle nostre squadre, questa è la cosa più importante. È chiaro che venendo a giocare qua le partite più belle della stagione abbiamo modo sicuramente di farli sognare, di farli avvicinare ulteriormente al nostro sport. Elisa Casanova, Proreco e nuotatori genovesi, insieme per la pallanuota e i più piccoli. Sì, è iniziata questa collaborazione, siamo contentissimi, oggi è il primo giorno di prove, ci sono tantissimi bambini e speriamo perché no, un domani che ci sia un campione come il presidente Maurizio Felugo, chi può dirlo?